Recensione di questa lente grand'angolo estremamente economica, estremamente adattabile, universale per tutti i tipi di cellulari. Funziona così, c'è una pinzetta, ora io lo sto tenendo con la mano sinistra, vediamo se riesca a spingere abbastanza, si inserisce sopra l'ottica e noi abbiamo trasformato il nostro cellulare in un grand'angolo. Ora, questa è l'inquadratura che sto facendo, quindi per chi si deve auto riprendere, si vuole riprendere con delle inquadrature, o anche, non c'è bisogno di riprendere te stesso, ora sto usando la telecamera quella che guarda a me, quindi quella meno bella, però è una figata. Praticamente dove è attaccata la vite c'è la possibilità di svitare questo e cambiare ottica, ne ho ricevute due, è una cosa che costa proprio due soldi, costa questo tipo di accessorio, però vi può cambiare l'ottica, il grand'angolo a me piace, è una delle cose che uso di più, questo è un fisheise, vediamo così, la prendo, la inserisco a molletta, e quindi così al volo, senza regolarla bene, allargo molto più l'inquadratura. Vediamo qua in tasca ho un sacchettino, all'interno ho un'altra ottica, va bene, adesso svito e avvito questa, un attimo metto in pausa, bene, ho creato il cambio, quindi ho cambiato la lente, veramente non ho capito qual è la differenza, forse una stringe di più, una stringe di meno, non lo so, esattamente bene, e questo è l'effetto con la seconda lente. Adesso, vabbè, vi sarebbe carino fare il video anche con la telecamera frontale, ma mi sa che non mi fa tutto un video, vabbè, vi faccio vedere un video anche con la telecamera, quella davanti, perché è quella di qualità migliore, quando io riprendo me stesso, invece uso la telecamera, quella davanti allo schermo, però è figo, dai ragazzi, avere la possibilità di avere il grand'angolo in modo così universale, cambiate cellulare, non è come l'iPhone, che so solo per l'iPhone, questo lo attaccate in qualsiasi cellulare, va bene, dite il fatto con il grand'angolo, notiamo che messo nella telecamera quella dietro, non c'è il cerchio, non si vede il cerchio, si vede che rimane un po' più staccata rispetto a quella, col fatto che c'è la custodia, e quindi, adesso vediamo, vedete, col mio cellulare non avrei mai potuto prendere, un po' più lenta la messa a fuoco, non avrei potuto mai prendere, questo è quello zoom, e questo è senza zoom, metto a fuoco, vedo che la reazione della messa a fuoco è più lenta, però riesco a prendere l'insieme della piramide, stando ai piedi della piramide, vedete, pur rimanendo a distanza di due metri e mezzo, riesco a prendere due metri e mezzo, ecco qua, la messa a fuoco la vedo che è meno reattiva, va bene, lasciatemi un commento, ditemi cosa ne pensate, veramente questo è quello di là, proprio che costano poco poco poco, quindi la qualità della lente non sarà eccezionale, ma...